Piera era una ragazza di 23 anni, l'ultima volta che io l'ho vista ed era una ragazza affetta dalla semia Maior. Queste volte io sorrido quando sento parlare degli altri dire la Piera Cutino perché ovviamente per loro non è una persona, la Piera Cutino è un'associazione e io rido c'è tutto. La Piera Cutino che cos'è, che non è più una ragazzina di 23 anni, è cresciuta. La Piera Cutino